ciao a tutti ed eccomi in mitopia siamo al primo piano della torre odiosissima torre vieni qua andiamo noi qui non si scherza si va affrontiamo tutto e tutti ecco vai battaglia for noi e per noi cos'è un misto tra inglese e italiane un fuego sotto a chi tocca due belli goblin uno occhialuto e uno no vai ah no erano tutte due occhialute due volti occhialuti quindi bene bene andiamo a 144 comunque devo dire che aumenta i punti esperienza in questa torre e anche più monetine bene allora sono andati sopra c'è qualcosa che non va sì avevo un filo sulla spalla che mi stava facendo ammattire ah ecco grazie va bene gli dava noi un filo sulla spalla un filo un po' di poso preciso ragazzi e non gli sfugge niente nemmeno i cili vai inizia aumentiamo la velocità di battaglia questo mette la trappola e l'attacco per il sicuro vai 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 tagliamo il tuo vai a lei ciao 385 386 velocità super anche per le battaglie avanti 209 wow lo che andrà vediamo un po' qualcuno vuole chiacchierare abbiamo un sacco di tempo a disposizione oggi ne approfitterò per cambiare look vai e anche vikingo cambia look e ci picchi ho messo a lisciato i capelli che ne dici wow sembrato pezzona effettivamente vai ma che si è fatto la pelle rosa vero sì oh livello 11 di amicizia tra vikingo e 7669 con 7 aspetta che provo a cambiare aspetta sì vai si fa così dai da mangiare questa volta l'ho dato io sbav la poi sere vai manca a vikingo vai perfetto andiamo indietro riprendi secondo piano però aspetta che riprendo qua andiamo che faccio anche la parte sottostante dello stradello iniziamo 387 388 visi salvati allora poi andiamo giù ok uno sforziere fit di goblin che è anche raro bene strada sia ricongiunta la strada quella della parte sovrastante mamma mia mi ha messo super veloce chiacca nuova abilità ceffone che succede ah risvegliato giù ottimo è stato anche contento di essere stato risvegliato aumenta il livello di amicizia arriva a 8 altruismo ha preso vai vai 389 390 ne manca uno vai 391 e via è già finita ed ecco di nuovo la locanda e ho fatto anche il secondo piano anzi il primo piano di questa torre odiosa vediamo occupati del gruppo e ora farò l'imitazione vikingo attacco è uguale sì sì è uguale devo dire aumenta l'amicizia quanto siamo arrivati livello 10 vera simpatia anche con giù torna indietro che facciamo donna delle monete nessuno vuole comprare ma guardate vai a mangiare diamolo casuale oh non è piaciuto il formaggio alla sere indietro riprende andiamo al secondo piano devo dire di essere lì mi sembra vero sì e anche questa bandierina messa secondo piano via si parte anche qui va a sapere quanti vivi ci saranno ecco appunto si inizia sempre con la parte alta vai a tutto vapore l'altra sera ho visto ho visto visto cosa un fantasma ma pure mi ha fatto battere il cuore così forte che non ho più chiuso occhio ma dai è un tipo socievolissimo parlaci la prossima volta vuol dire che lo conosci eh sì se le fanno con tutte vai andiamo altro bivio sempre di sopra anche questo secondo piano con tanti bivi apri uh 980 monete il bottino sale è un po' che non spendo quindi tra la 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 battaglia battaglia 4 nemici la veggobuia vediamo un po' bene 2 nemici alle ridotti è imperturbabile ciò grande tutti con Gio e ci siamo arrivati in mezzo il goblin e ci siamo arrivati in mezzo la nuvola nera vai è stato facile 161 livello 12 di stratux e fra poco fanno tutti livello 12 andiamo si ripiega la nostra strada questa la veggobuia uh 4 davetti uh l'esplosione che non è nulla da poco andiamo bene ma niente mi sono dio 6 diavoletti vediamo il dolore fanno fai attenzione perché stradussina stiamo guardando altrove grazie all'avvertimento sere ho vinto a livello oh anche con Sergio a livello 10 sacrificio ha preso insieme vai oh e finalmente 1 ce lo siamo levati dai piedi 2 dai dai manca poco 3 4 brand 93 99 cioè gio e serena e vikingo sono passi devo rimettere insieme in stanza mi sa che ci sono già guarda qua salvo tutti di livello ve l'avevo detto e siamo a livello 12 ok adesso sapete che devo fare sviluppo alla relazione livello 10 no infatti sono insieme quindi va benissimo vikingo e sere continuo a giocare allora aspetta vediamo un po' se vogliono comprare qualcosa sì alleluia donate le monete a sere vediamo che cambia abito armatura anzi scusate armatura avventura ecco bene blu vai mantello blu che poi sembra più verde però va bene poi diamogli a geo una nuova arma si a geo scusate a vikingo la daga equipaggia quanti soldini ho sì sì anche a geo nuova padella padella sfarzosa wow sbrilluccia pure basta vai riprendi il gruppo è perfetto così vediamo sbloccato l'altro piano però sapete devo mettere la bandierina tutto questa volta andiamo giù bivio giù sotto vai allunghiamo secondo me un'altra volta del buio da quelle parti a che ha spento la luce che fido avete fatto guarda a destra poi hai botta si sono levati un po' di punti ma che combini scusa vai altro bivio sotto vabbè devo entrarci ancora due volte qui dentro forciere vai bene si la strada adesso va dritta verso la locanda non va più dritta verso la locanda ma c'è un nemico c'è un nemico quattro sotto a chi tocca bene mi è rimasto solo uno ciao ma vieni vieni avanti mamma mia 248 è vichingo vedi mi mancava il livello 12 andiamo locanda noi no no prima della locanda c'è una nuova avventura una nuova battaglia scusate vai sempre questi quattro mannaggia diavoletti oh ne manca uno ciao 407 volti salvati avanti bene locanda 400 abitanti vabbè potere divino ci comunica che abbiamo aumentato la pepiera la pdpm la pepiera di pv ci si intriga la lingua si 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 vai prossimo obiettivo sarà 450 eh si infatti 450 andiamo ormai questa storia la conosciamo bene oh vedi che vogliono chiacchierare un nuovo regalo per Joe vediamo che gli si fa cosa sarà un cucchiaio agento non male insomma già contento lala vai livello 11 mamma mia il vikingo ha visto tutto e anche lui vuole bene questa toxina sempre giù non è giusto vikingo no ora li devo metto insieme via cambio dai da mangiare vai indietro riprendi ok sapete che c'è quelle strade che giù attendano non c'è ancora bandierina è una questione di principio la bandierina va presa quindi adesso ritorno di sopra la battaglia fra poco c'è una battaglia me lo sento invece no arriviamo al bivio sotto via vediamo di fare veloce forziere 4 e 50 bene bene gruzzoletto e ora è tutta dritta vai vai no altro bivio no cioè vabbè dopo prenderemo di sotto perché tanto si uniscono le strade secondo me andiamo andiamo a battagliare 2 mi mancano 2 manca 1 perfetto eccoci qua avanti allora c'è un'altra battaglia quella con tutti i tavoletti e se è un classico ormai ah no invece questa volta mi hanno fatto bugiarda non sono tutti i tavoletti ma c'è anche quell'esserino no ha fatto sgambetto no ha fatto sgambetto non l'ho voluta mettere a salvare però ci ha fatto due volte sgambetto 2 e 18 di esperienza e lo canda si ha mamma mia oh il secondo piano ci fa soia finisce più il secondo piano va a mangiare casuale no se qualcosa non piace vabbè è casuale basta sapere che cosa capita riprendi oh oh dovrebbe essere l'ultimo l'ultimo passaggio dentro questo piano vai sotto speriamo di incontrare nemici troppo tosti dice Joe visto la luce di sopra beh forse è già preso prossimo video è sotto vai nemico 4 goblin esplosione va bene tutti e 3 un po' in corpo solo vai 4 bene adesso lì ci dovrebbero essere tutti quei 4 diavoletti non mi rifanno bugiarda eh bugiarda guarda sono due gelatine che se ne vanno via subito bene il diavoletto è andato via ne manca uno e non ce ne sono più beh 235 esperienze ma che siamo grulli per davvero qui si viaggia a palle di po' non si friggia mica con l'acqua fanno pace continua a giocare ma che stai scherzando qui non si molla riprendi ma devo farli mangiare torna indietro farli mangiare casuali come sempre no gli ho dato un'altra volta da mangiare vabbè ok torniamo indietro vediamo se vogliono qualche attenzione serena vai armatone in lana vai viola indossa mamma mia mamma mia ma si diamola anche a giova bella la divisa meraviglia vai turchese così la vorrei mi piace turchese così perfetto con i simboli delle carte sul grembio ma che bellezza ma si vai crepi la valentia doniamo anche la nuova divisa stratuxina cioè doniamo compriamo no ha comprato la banana però ci deve rendere soldi ecco fatti torna indietro riprendi allora vediamo un po' ho fatto 12 modelli diversi vestiti preferito dei cuochi bene 10 punti di parametro ps bene quindi ho fatto il livello siamo a ripiantare primo e secondo piano fate il terzo piano prima di entrare nel terzo piano mi fermo qua io spero che vi sia piaciuto il video e se vi è piaciuto mi raccomando mettete un mi piace commentate fatemi sapere le vostre impressioni adesso un mega ciao ciao a tutti e alla prossima